Il derby dei Rubinetti ancora una volta regala grandissime emozioni. Lo vince per la quarta volta in altrettante partite la Paffoni in maniera incredibile. 64 a 62 con Borgusesia che per due volte sbaglia il tiro vittoria. Una partita simile a quella dell'andata in cui Omeni ha sempre dato l'impressione di poter comandare agevolmente il gioco e il punteggio però è andata vicinissima ad un clamoroso Arachiri. Avanti infatti di 12 all'inizio dell'ultimo quarto la Paffoni ha smesso di giocare e ha consentito agli ospiti trascinati in particolar modo da Quartuccio 12 punti di cui 10 nell'ultimo periodo di arrivare come dicevamo ad un passo ad un centimetro da quella che sarebbe stata una clamorosa partita. La Paffoni conferma di non attraversare un momento brillantissimo di forma come si era già visto la scorsa settimana ad Empoli ma importante era vincere la vittoria è arrivata un ulteriore passo verso l'aritmetica certezza del primo posto al termine della stagione regolare. Nella serata in cui Ghizinaldi ha di fatto avuto tutta la rosa a sua disposizione ci sono stati delle buone partite da parte di qualche giocatore in particolare da Francesco Fratto. Tanti però errori e un difetto di personalità nella finale che deve sicuramente indurre a riflettere. Una partita che era cominciata alla grande subito 6 a 0 e 12 a 2 con Simoncelli e Dip a banchettare 16 a 8 al primo riposo. Nel secondo quarto Omenia vola addirittura con le triple di Villa Brigato e Fratto al massimo vantaggio sul 27 a 11 che diventa 35 a 18 con il contropiede dello stesso Fratto. Nella finale Gatti prova a ricucire lo strappo ci riesce in parte a metà gara 40 a 28 per la capolista. Nella terzo quarto si arriva con la tripla di Benedusi su 43 a 30 però poi Borgosesi appiazza un parziale di 15 a 3 che le consente un primo importante riavvicinamento fino alla 48 a 45 con il canestro di Sodero uno dei pochi della sua partita. Finale di quarto caratterizzato dalla crescita di Arrigoni e Fratto che mettono 9 punti a cavallo di terzo ed ultimo quarto. Omenia sembra allungare nuovamente le mani sul match andando sul più 12 però improvvisamente si spegne la luce. Progressione di Borgosesia 61 a 53, 63 a 57, 63 a 62 con la tripla di Quartuccio a poco più di 30 secondi dalla fine. La Pafoni sbaglia in attacco, Villa recupera un pallone fondamentale in difesa, fallo su Arrigoni, uno su due, altro tiro per vincere per Borgosesia. Il ferro dice no alla tripla di Quartuccio.